Il 2018 sarà l'anno della ripresa del traffico croceristico in Italia e a Salerno in modo particolare. Dopo aver quasi mandato agli archivi un anno, il 2017, che ha fatto registrare un vistoso calo di attracchi e presenze, 77.000 croceristi a fronte dei 111.000 del 2016, il 2018 registrerà un piccolo ma significativo aumento. Saranno infatti 50, a fronte delle 42 di quest'anno, le navi che attraccheranno al porto di Salerno, per un totale stimato di oltre 85.000 presenze. Tra i principali fattori che stanno determinando il calo incide in maniera considerevole l'altezza dei fondali, attualmente insufficienti per il pescaggio delle navi da crociera di grande dimensione. Non c'è ancora una data precisa per l'avvio dei lavori di dragaggio che interesseranno il porto di Salerno, ma qualcosa però filtra, come ci conferma Orazio De Nigris, amministratore delegato della società Stazione Marittima di Salerno. Dobbiamo dire, per quanto riguarda Salerno, in particolar modo noi abbiamo anche dei problemi di pianificazione e programmazione. Come tu ben sai, le crociere vengono pianificate tre anni prima degli approdi, per cui anche la stampa dei cataloghi, ad esempio delle grandi compagnie, ora è in stampa quella del 2020. Pertanto, non avendo la possibilità di sapere delle date certe relativamente al dragaggio e alla disponibilità delle banchine, noi non riusciamo neanche a contattare le compagnie per chiudere dei contratti interessanti per i prossimi anni. Come si può risolvere questo problema? Ecco, stavo appunto dicendo che con una programmazione certa sulle date di inizio lavori dei dragaggi e la fine dei lavori e quindi la consegna della banchina, in questo modo noi riusciamo a intercettare i segmenti idonei a secondo del pescaggio che abbiamo qui in banchina. Quando questi lavori di dragaggio saranno finalmente effettuati, i tempi non mi pare siano così brevi, cosa succederà in positivo per la stazione marittima che al momento non riesce ad esprimere il suo potenziale e per l'economia salernitana in generale? Allora, guarda Marcello, a volte dico che noi abbiamo una Ferrari, però non riusciamo a mettere oltre la seconda, proprio perché questa struttura, al di là che è uno strumento di accoglienza per i croceristi, è una finalità a se stessa, perché noi vediamo delle persone che vengono a posto per visitare la stazione marittima. Quando ci sarà finalmente il pescaggio sufficiente per ospitare le grandi navi da crociera, è chiaro che noi innanzitutto metteremo tutte le navi qui al molo Manfredi 1, con la fruibilità della città di Salerno che è a 200 metri in fin dei conti, ma soprattutto liberiamo un altro posto ormeggio nel porto commerciale, quindi facilitiamo anche l'ingresso di navi per le merci varie alla banchina 810 ed altri settori alla banchina 1719, quindi questo ha un doppio effetto, ma oltretutto ti devo dire che Salerno in questo momento è considerata all'interno della Casa dei Porti, per esempio come abbiamo visto a Palermo nell'ultima occasione del Cruise Day, è considerata ancora un porto che è un crocevia interessante per tutte le compagnie, quindi noi dobbiamo fare null'altro che evitare dei gravi problemi, avere già una condotta in linea con un pescaggio sufficiente, ma senza pensare a 13-14 metri, con 10 metri di fondale su questa banchina, noi riusciamo ad ospitare un segmento di compagnie in grado di avere la massima fruibilità di questa Ferrari che dicevo prima.